Nel panorama internazionale, i lavori di riqualifica delle infrastrutture di volo dell'Aleoporto di Venezia hanno rappresentato una eccezionale sfida, vinta dal sistema nel suo complesso. L'eccezionalità sta nell'aver eseguito un vasto modernamento dello scalo, senza averne minimamente compromesso l'operatività, mantenendo cioè inalterati l'offerta e il livello di sicurezza garantita. Questo risultato è stato raggiunto grazie ad un razionale impiego delle due piste di volo di cui è dotato lo scalo, layout che ha consentito di eseguire i lavori su una vista trasferendo la totalità del traffico sull'altra e viceversa. In aggiunta, la condivisione degli aspetti diseguiti tra tutte le componenti del sistema aeroportuale ha permesso di determinare quali misure adottare a garanzia della sicurezza e di monitorare nel tempo la loro efficacia. Come ERAC abbiamo costantemente monitorato che il processo fosse adeguatamente governato. Adesso l'aeroporto di Venezia è un'infrastruttura moderna e flessibile, ma soprattutto ha conseguito un approccio alla gestione e al cambiamento adeguato ad affrontare sfide complesse.